L'ex vice sindaco Nieri, come appare tutta questa vicenda diciamo tra virgolette dall'esterno? Come appare per tutti, c'è un tema di democrazia in questo paese, l'elezione è diretta del sindaco, per cui è un tema molto chiaro, stiamo lì, non si cambiano le regole del gioco mentre si gioca, per cui il sindaco giustamente richiama tutti alle proprie responsabilità, vediamo se ognuno si assume le responsabilità anche di fronte all'aula e soprattutto di fronte ai cittadini. Grazie